La storia vera di Charles Ingram stasera su Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli sulla miniserie tv che racconta la truffa subita dallo storico programma Chi vuole essere milionario. Stasera, lunedì 29 agosto 2022, andrà in onda su Rai 1 la miniserie tv quiz, la storia vera di un concorrente dello storico programma Chi vuole essere milionario, scopriamo quando inizia, l'orario, la trama, quante puntate sono previste e tutte le anticipazioni in merito. Leggi anche, Paola Turci nuovo incidente, in ospedale per trauma cranico, cosa è successo e come sta? È stata una brutta caduta quiz, quando va in onda? Giorno, canale, dove vederlo in tv La miniserie tv quiz andrà in onda su Rai 1 lunedì 29 agosto 2022 I telespettatori, quindi, dovranno abituarsi ad una location d'eccezione per gli studi dell'amato programma televisivo Chi vuole essere milionario, storicamente di proprietà di Canale 5 I diritti del film, che ripercorre la storia vera di un concorrente del programma, infatti, sono stati conquistati dalla Rai A che ora inizia? Orario la miniserie tv quiz andrà in onda stasera, ma a che orario inizia? L'appuntamento è alle 21 e 25 Quiz, film Chi vuole essere milionario, di cosa parla? Trama la trama della miniserie quiz Oltre a raccontare la nascita di chi vuole essere milionario, riporta la storia vera della cosiddetta truffa del colpo di tosse messa in atto da Charles Ingram Una vicenda che ha appassionato la cronaca inglese. Il fatto è avvenuto nel 2001, mentre la moglie di Ingram aveva già partecipato in passato vincendo 32.000 euro Si tratta di una presunta truffa messa in atto contro il quiz televisivo Secondo le cronache dell'epoca e come ben raccontato nella miniserie, durante la prima parte della registrazione della puntata, Charles Ingram non sembrava un concorrente particolarmente esperto riuscendo ad arrivare a fatica a 4.000 sterline Il giorno successivo, però, il suo percorso cambia improvvisamente ed è impressionante vedere come Ingram nel suo ragionare ad alta voce vada in una direzione per poi virare verso quella corretta seguendo. Un colpo di tosse La storia vera di Charles Ingram, anticipazioni, attenzione spoiler, ad aiutare Charles Ingram nella truffa e danni di chi vuole essere milionario sarebbero stati la moglie presente in studio, che aveva già partecipato al quiz vincendo 32.000 sterline, e il professor Whittock, un altro ex concorrente del programma. Gli Ingram hanno sempre negato tutto e non hanno mai confessato ufficialmente di aver barato Nel 2003 ci fu un processo, la consegna del premio di un milione venne sospesa, la coppia fu condannata e dovette ripagare anche le spese legali Quante puntate sono? Quiz è una miniserie composta da tre puntate, ma Ryan ha deciso di mandarle tutte in onda durante la serata di stasera 29 agosto 2022 Cast completo, attrici, attori e personaggi Matthew McFadden interpreta il protagonista Charles Ingram Michael Sheen interpreta il presentatore Chris Terence Ian Clifford interpreta la moglie Diana Ingram Mark Bonner interpreta Paul Smilin McCrory interpreta Sonia Woodley Michael Gibson interpreta Tequen We Talk e voi, dopo aver scoperto la trama, seguirete la miniserie Quiz? Restate aggiornati con per scoprire tutte le anticipazioni sulla miniserie di Ryan in onda stasera, quando inizia, la trama delle puntate, l'orario, tutte le curiosità sui protagonisti del cast e il canale dove seguire le repliche di quiz e tutte le curiosità sulla storia vera del concorrente che ha truffato chi vuole essere milionario Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao